Ogni volta che mi tuffo non so mai cosa troverò. Questa volta appena sceso sul fondo noto una lunga sagoma sulla sinistra. Potrebbe trattarsi di un Barracuda. Trattengo il fiato e lo faccio avvicinare. E finalmente sparo. L'ho preso benissimo ma il Barracuda è ancora vitale. Quando viene colpito il Barracuda combatte con tutte le sue forze e a volte cerca di colpire l'assalitore come in questo caso. Tuttavia riesco ad averla meglio su di lui. Questo è davvero un bel pesce e ottimo da mangiare.